Tu, metti lì, metti lì, mamma, metti lì, è più buono, è più buono, è ricorda, e lui è molto buono, è buono, è buono, guarda che dolce cea Davide, vieni, ooo, tiramisu, è buono, non è mixto? Sunt molto buono, tiramisu, e buono, non vuono! Sunt carnazi? Non vuono! È buono! E' buon tiramisu? E' buono? Adesso è buono Sì, è finito Fugi, fugi 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 Buonasera Fugi 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 Fuga Fugi Non ci mettiamo qua. Come lo facciamo? Stai. Vuoi o furculița? Sì. 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 Ketchup? Așa? Più più. Outro cosà sempi? Stai un pic, stai că lo duc acum. Ok Peaita ma tete. Chià? this is Hodogu nulu Davidea. Si pare, pare, da, pare hodog. Si acum, cum spui? Cum spui? Cum se zice? Pofta buna! E bun? Foarte bun, hodog. E bun? Si, ma, sepa l'acqua. Trebuie apa? Trebuie sa bea un pic de apa. Hai, aia de acolo e sticla lui. Vei sa nu-ti cadă hodogul, Davide. O sa cadă. E bun? Cum sa facem? Ce bun e! Ia faci si tu! E foarte bun! Ia zici sa faceti si voi reteta asta, da? Si? Tu ai inventat reteta asta de hodog? Da? Cu pâine integrală. Ce bun e! Saluta-o un pic! Ia zi! Va pupa! Incercati hodogul nostru cu pâine integrală! Mi piace così, via Bye 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 bye